Jets è incominciata una nuova serie con i treni regionali nuovi, volevamo dare una discontinuità rispetto al passato, se vedete sono cambiati i colori del treno esternamente, i nomi sono stati swing, jets e quindi richiamano un viaggio piacevole, un viaggio rilassante come lo è la musica. I treni oltre ad avere delle caratteristiche di comfort direi incredibili hanno la caratteristica di sicurezza di avere videosorveglianza a bordo, è un'innovazione importante sui treni perché garantisce ai nostri viaggiatori davvero un livello di sicurezza che sui treni regionali non si è mai visto, perché abbiamo verificato che ovunque i sistemi di videosorveglianza funzionano, sono attivi a partire dalle stazioni, la microcriminalità sparisce completamente e quindi siamo convinti che questo sia un meccanismo per garantire questi viaggi rilassanti a suon di musica jazz sui treni. Noi abbiamo in Italia una flotta che per il 60% dei treni oggi è vecchia e quindi dobbiamo fare un grande investimento per il rinnovo del parco, abbiamo il 40% dei treni che sono nuovi in buone condizioni e il 60% che va rinnovato. Stiamo facendo con Trenitalia proprio in questi giorni la più grande gara mai fatta negli ultimi anni per l'acquisto di treni regionali nuovi, 4 miliardi e mezzo di euro di investimenti che potranno essere attivati a seguito di contratti di servizio con le regioni. Questo consentirà di andare sostanzialmente al 90% della flotta dei treni regionali nuove, il che sarà la vera grande svolta.